Zeltic, la terapia contro il grasso. Com'è la procedura del trattamento? Ci sono effetti collaterali? La procedura di esecuzione di Zeltic è molto semplice. Il paziente arriva, dopo la visita medica, identificata l'area, si siede, gli viene applicato la Zeltic, la macchina, che produce una blanda e efficace aspirazione della zona da trattare all'interno di un manipolo di gomma morbida, all'interno del quale per un'ora il grasso verrà raffreddato. Il grasso, la pelle e tutto quello che sta dentro, ma attenzione, solo il grasso sarà colpito. Nell'arco di 15 giorni inizierà una scomparsa naturale del tessuto adiposo. In quest'ora il paziente, che non avverte alcun dolore, proprio alcun dolore, può leggere, telefonare, guardare il computer, guardare la televisione, non deve muoversi perché è vincolato alla macchina Zeltic. Finito il trattamento, l'attrezzatura viene staccata e il paziente ricomincia la sua normale vita. Complicazioni dopo Zeltic? Non ne sono conosciute. Effetti collaterali negativi? Non ne sono conosciuti. Una conseguenza che può esserci è la formazione, e non in tutti, di una echimosi, di una zona bluastra. È esperienza comune, si batte la gamba contro uno spigolo e rimane un piccolo segno blu. Se una parte del nostro corpo viene un po' aspirata, risucchiata, bene, compare una piccola allure blu. E se, diciamo, l'area è abbastanza ampia, può essere leggermente insensibile. Ma queste echimosi e questa insensibilità in pochi giorni scompaiono. Quindi è una macchina del tutto innocua. Grazie. Grazie.